Il Manchester City di Roberto Mancini continua a perdere terreno in classifica dopo il 3-3 casalingo imposto dal Sunderland. Ora il Manchester United può portare a 5 i punti di vantaggio con una vittoria stasera sul campo dei Blackburn Rovers. A 5 minuti dalla fine i Blackheads conducevano per 3-1 prima che Balotelli e Kolarov strappassero un punticino. Nonostante le recenti prestazioni in cario oscuro, però, Mancini prova a guffarla ai rivali cittadini del Manchester United. Dopo questo 3-3 la fiducia cala un po', ma solo per oggi. Infatti domani lo United pareggerà col Blackburn e noi resteremo a soli 3 punti. Credi che lo United pareggerà? Sì. Perché? Non lo so. La partita di stasera a Ewood Park ha i suoi risvolti anche in chiave retrocessione. A dicembre il Blackburn era dato per spacciato, ma proprio dopo aver vinto ad Old Trafford all'andata, i Rovers hanno cominciato una grande rimonta. Ferguson spera di evitare un'altra sconfitta, mentre la squadra di Steve Keen cerca altri punti preziosi per la salvezza. Ci attende una partita difficile, ma saranno tutte così da qui alla fine. Mancano otto partite e speriamo di cavarcela. Se le previsioni di Mancini dovessero avverarsi, allora le due squadre di Manchester si ritroverebbero separate da soli 3 punti a 7 partite dal termine. A quel punto il derby del 30 aprile sarebbe una vera e propria finale.